Ritengo che l'iniziativa sia interessante, i punti che avete sviluppato sono sicuramente importanti, ci sarebbe su ognuno di essi da discutere alcune cose, sottolineo per brevità di discussione sono alcune cose, ad esempio la scuola, la scuola mi sembra mettere in sicurezza gli edifici scolattici e darne la responsabilità al comune, una cosa molto importante perché il comune è vicino e sul territorio e quindi potrebbe seguire bene queste cose, il problema è sempre solo uno, le coperture finanziarie, perché non si può dare a tutti i costi delle responsabilità agli enti locali continuando a tagliare le risorse che questi hanno a disposizione, quindi se noi diciamo una cosa che è giustissima, faccio solo l'esempio della scuola, potremmo parlare anche di altri punti, la sicurezza delle scuole è giustissima e poi diciamolo prende al comune, sì, con che soldi? Questa è la domanda a cui bisogna rispondere, se no facciamo dell'utopia e questo fare dell'utopia soprattutto per dei ragazzi che si affacciano per la prima volta sul mondo politico può essere un fatto grave, quindi bisogna dare le responsabilità a chi le ha, in questo caso allo Stato, siccome la scuola è pubblica lo Stato deve trovare i soldi, gli enti locali devono farsi carico di saperli spendere e spendere bene, chi non è capace a spenderli e a spenderli bene o truffa o fa sistema mafioso e quant'altro deve andare non a casa, in carcere, che è un discorso molto semplice che in questo Paese probabilmente non si riesce a fare. Per il resto io credo che questa iniziativa dei giovani di Libera sia importante come sono importanti molte altre iniziative dei nostri giovani che si affacciano al mondo politico e mi auguro che sappiano veramente creare un ricambio nuovo alla politica. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a tutti.